Siamo a Lecce per il primo incontro interdisciplinare salentino di medicina respiratoria. Le malattie respiratorie, quindi l'asma e la BPCO, sono state chiaramente al centro dell'attenzione ma si è parlato anche molto della vitamina D e del suo effetto per quanto concerne appunto il nostro sistema respiratorio per il quale la vitamina D ha un'azione modulante molto interessante. È stata quindi l'occasione per fare un utile interessante approfondimento appunto sulla vitamina D, sul suo significato per il nostro organismo e su come ce la procuriamo e su cosa fare eventualmente quando ce n'è poca, cosa che purtroppo è abbastanza frequente. Parliamo di questi temi con la dottoressa Egeria Scoditi dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR qui di Lecce. Senta dottoressa, quando si è carente di vitamina D? Qual è la definizione appunto accettata più o meno universalmente di carenza o di insufficienza, di grave carenza? Ci spieghi un po' quali sono i parametri. Sì, i cut-off, cioè quelli che sono i livelli soglia di carenza di vitamina D sono stati stabiliti essere al di sotto di 20 nanogrammi ml di calcidiolo, che è un metabolita della vitamina D che si forma naturalmente nel nostro organismo. Quando quindi i livelli di calcidiolo nel sangue sono al di sotto di 20 nanogrammi ml, siamo in una situazione di carenza che può essere poi moderata oppure anche più grave se i livelli chiaramente sono al di sotto di questo valore ancora. Siamo in una condizione di insufficienza ancora di vitamina D se i livelli di calcidiolo sono tra 20 e 30 nanogrammi ml, mentre siamo sufficienti, o meglio, la situazione è ottimale se i livelli di calcidiolo nel sangue si attestano tra 40 e 60 nanogrammi ml. Senta, è facile fare il test per capire quali sono i propri livelli di vitamina D. È una cosa la portata di tutti o è una cosa complicata che va fatta in centri specializzati e così via? La determinazione dei livelli ematici del calcidiolo o 25 drossi vitamina D che è il migliore indicatore clinico di riserva vitaminica biodisponibile è un test che può essere fatto semplicemente. Ci sono delle metodiche immunoenzimatiche, radioimmunologiche o mediante cromatografia per la determinazione dei livelli nel sangue. Tuttavia il test risulta essere particolarmente costoso e quindi non è auspicabile una raccomandazione su larga scala. Allora, una volta stabilito, presunto che c'è appunto dei livelli inadeguati di vitamina D, cosa fare? Incominciamo dallo stile di vita che dovrebbe essere la prima cosa appunto sul quale intervenire. Cosa possono fare le persone per migliorare i propri livelli di vitamina D? Sicuramente considerando che per l'80-90% la vitamina D può essere sintetizzata a livello cutaneo grazie all'esposizione raggio UVB. Un consiglio è quello di esporsi in maniera appropriata, sensibile, al sole. Si ritiene che dai 5 ai 30 minuti di esposizione di braccia e gambe nelle ore cruciali, che sono dalle 10 alle 3 del pomeriggio, due volte a settimana, in estate, ma anche in tarda primavera ed in autunno, siano adeguati per consentire alla pelle di sintetizzare quantità sufficienti di vitamina D. Ecco, purtroppo per oramai le persone hanno molta paura dei tumori della pelle, del melanoma, chiaramente è una cosa appunto gravissima quando succede. Ecco, quindi c'è un po' una dicotomia. Se prendiamo troppo sole rischiamo di ammalarci appunto di cancro della pelle. Se ne prendiamo poco c'è la carenza di vitamina D. Ecco, c'è un equilibrio tra queste due situazioni? Ci può essere un equilibrio se specifichiamo che l'esposizione al sole deve essere assolutamente moderata, deve essere limitata nel tempo e lo si può fare appunto nelle ore che abbiamo appena detto e nella stagione appunto estiva e poi seguita poi dalla protezione solare. Consideriamo che però appunto addirittura è stato osservato da alcuni studi che la vitamina D può essere associata a addirittura protezione da diversi tipi di cancro della pelle. e quindi sicuramente questo messaggio dovrebbe essere diffuso. Bene, vediamo invece le situazioni di carenza più grave dove potrebbe essere utile una supplementazione. Quali sono queste carenze e come si supplementa la vitamina D? La vitamina D sicuramente soprattutto per quei paesi o per quelle condizioni fisico-fisiopatologiche in cui la sintesi cutanea dovuta ad esposizione col solare ridotta deve essere ottenuta attraverso la dieta, quindi per via orale, o attraverso gli alimenti naturalmente ricchi di vitamina D o attraverso quindi alimenti fortificati oppure attraverso la supplementazione con integratori a base di vitamina D. o attraverso la vitamina D o attraverso la vitamina D. o attraverso la vitamina D.